Benvenuti in questo nuovo video di Animalpidia. Oggi parleremo delle differenze tra l'Alaska Malamute e del Siberianaski. Due grandi e bellissimi cani, entrambi appartenenti al gruppo 5 della FCI, cani nordici da slitta. A prima vista si potrebbe pensare che sia la stessa razza di cani. Tuttavia, ti aiuteremo con questo video di Animalpidia, analizzando i dettagli quando ci sono le caratteristiche che li differenziano. Da non perdere! L'Alaska Malamute è originaria dell'Alaska occidentale. Fu allevato dalle tribù Inuit alla fine del XIX secolo e veniva considerato un membro indispensabile e prezioso per loro, grazie al fatto che contribuiva all'esistenza degli Inuit in queste aree remote e fredde. La sua natura obbediente, estremamente resistente e le sue qualità come cani da slitta, hanno aiutato la gente a spostarsi e trasportare il cibo da certe aree remote degli accampamenti. Era eccellente anche per la caccia. Fu solo durante il periodo della corsa all'oro in Alaska che anche molte altre persone scoprirono per la prima volta l'Alaska Malamute e le sue numerose qualità. Fu allora che iniziò ad essere presente in tutti gli Stati Uniti. Siberia-Naski. Non si sa esattamente a quando rimonti la nascita di questa razza, ma ciò che è certo è che risale a secoli fa. Già nella pre-storia c'erano i Ciuci, una delle tante tribù che coesistevano nelle zone fredde e disabitate della Siberia. In questo caso la tribù Ciuci è stata quella che contribuì all'esistenza del Siberia-Naski. Per secoli l'Aski è stato utilizzato per la caccia del trasporto, anche per il commercio tra i villaggi, ma a differenza di quello che possiamo pensare, l'Aski non veniva utilizzato per trasportare carichi pesanti, bensì veniva sfruttata la sua capacità di resistere a lunghe passeggiate. Nonostante la metallità di quei tempi, i Ciuci si prendevano cura e rispettavano il Siberia-Naski. Vivevano con lui e lo nutrivano con amore. La grande fiducia che avevano in questo nobile animale li portò anche a voler dormire con lui, specialmente donne e bambini, che godevano del calore emesso dal suo corpo e li aiutava a sorportare le temperature gelide. Caratteristiche. Possiamo assorbare alcune differenze di peso e dimensioni tra questi due esemplari. L'Aski è naturalmente più sottile e più leggero, con un peso compreso tra i 15 e i 30 kg, mentre la Laskan Malamute può pesarne da 34 a 38. Inoltre, l'Aski misura tra i 50 e i 60 cm, a differenza dei 58 o 63 che può raggiungere una Laskan, che è più robusto ed alto. Oltre al peso e alle dimensioni, ci sono altre caratteristiche fisiche che possono aiutarci a differenziare queste due razze. Differenze nella struttura cranica. Entrambe le razze possono avere un muso bianco, con una linea verticale scura o con una maschera. Tuttavia, a livello strutturale, possiamo osservare un muso più sottile nell'Aski e più grosso nell'Alaskan. D'altro canto, possiamo notare delle differenze anche nelle orecchie. Entrambe le orecchie sono di media grandezza, ma quelle del Sibarian Aski sono notevolmente grandi e invece sono piccole in proporzione all'enorme testa quelle dell'Alaskan Malamute. Differenze degli occhi. Una particolarità molto apprezzata dell'Aski è la sua capacità di sviluppare l'askania come condizione genetica, cioè di possedere un occhio di ogni colore. Può anche averli marroni o blu, mentre l'Alaskan Malamute li potrà avere solo marroni. Differenze del mantello. Il mantello di entrambi i cani è diverso, anche se entrambe le razze hanno un doppio strato di pelo e possono essere di diversi colori. Lo strato esterno del pelo dell'Aski è solitamente morbido e di dimensioni medio-lunghe, mentre quello dell'Alaskan Malamute è più lungo, può raggiungere fino ai 5 cm di lunghezza e ha uno strato esterno un po' più ruvido. Carattere. Per finire parleremo delle differenze di carattere. Alaska Malamute. L'Alaskan Malamute è un cane gentile che gode della compagnia delle persone, quindi può essere l'ideale per una famiglia numerosa e attiva o per persone che includono molto il loro cane nella loro vita quotidiana. È un cane nobile, leale, buono e paziente, facili da educare e adestrare attraverso rinforzo positivo. Di solito è abbastanza tranquillo a casa, ma attivo e giocoso lontano da casa, specialmente nelle zone fresche di montagna. Naturalmente non è consigliato farlo vivere in zone calde. Siberian Aski. Il Siberian Aski si distingue per essere un cane molto estroverso e amichevole, solitamente gentile e affettuoso con chi vive. A volte si comporta come una specie d'allarme della casa, ma senza mostrare mai tendenza alla territorialità o all'aggressività. È un cane molto intelligente e docile, volenteroso di essere un membro fedele e laborioso di quella che considera la sua famiglia. Ama essere mentalmente stimolato, giochi di intelligenza ed attività fisica saranno quindi molto utili per questo proposito. L'agility ad esempio è un'opzione molto buona per l'Aski. È un cane perfetto per ogni tipo di famiglia, poiché, a differenza della Laskan, si adatta meglio ai climi temperati. E anche per oggi da animalpiglia è tutto. Quale razza ti piace di più? Lasciaci opinioni e suggerimenti nei commenti. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere like e iscriverti al nostro canale. Alla prossima! Ciao!